E tu che ci fai qui? C'è... C'è... Ci siamo noi? Ha detto noi. Chi si muove lo fulmino. Ma non era scarica quella pistola? Hai scelto proprio il momento giusto per dirlo. Comunque la tua non è più carica della mia. Attento, è un trucco. Se ti muovi ti fanno secco. L'hai capito, eh? Queste è meglio metterle al sicuro. All'altra porta ci hai pensato? Ah, da lì non ci passa nemmeno una mosca. Ecco fatto. E anche questa chiave non serve più a niente. Un momento. Oh. Hai degli spiccioli, per favore? E sai come succede? In una spiegazione tra amici magari si finisce per fare un po' di rumore. Qualcuno alza la voce e le voci... Avanti, avanti. Sbrigati, sbrigati. E questo è il volume? Bene, possiamo capire. Più forte, ragazzi. Più forte. Più forte, ragazzi. Più forte. Accidenti, che brillante. A chi l'hai rubato? Non lo vuoi dire? Adesso lo faccio dire. Su, su. Alzati. Di su. Su. Ancora? Bravi! Quello è meglio che non lo conosci. Schiaccia le noci di cocco con una mano. Con una mano. Con una mano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pronto! Ce ne sono altri due! Falli entrare, la chiave è fuori! Lo so, lo so! E' bello! Cammina su! No, 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 no! Quei bravo, no! Fortuna che il tetto non era di mattoni! Credi che abbiano capito? No, però non lo fanno più!